Proseguono i controlli sull'autostrada del Sole da parte della Polstrada di Battifolle che nello scorso weekend ha fermato nel tratto a retino un'auto con a bordo due ragazzi di origine magrebina di 25 e 37 anni. La scintilla che ha fatto scattare il fermo è stata la targa doganale tedesca scaduta di validità per la circolazione sul suolo nazionale. All'alt poi è stata l'agitazione a tradire gli occupanti del veicolo. Gli agenti insospettiti hanno perquisito la macchina trovando dietro l'autoradio un involucro di cellofan dove all'interno erano contenuti poco meno di 92 grammi di cocaina. Per i due con regolare permesso di soggiorno e incensurati è scattata la perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione gli agenti però non hanno trovato altra sostanza stupefacente. Il 25enne e il 37enne sono stati dunque arrestati e trasferiti presso il carcere di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie. Grazie.